La pronuncia della Covizoc potrebbe chiudere in maniera positiva la partita iscrizione o aprirne un'altra che vedrà il teramo nelle aule di giustizia sportiva prima e amministrativa poi per provare a salvaguardare la Lega Pro. L'organo di vigilanza attraverso una missiva informerà solamente le società a cui mancano dei requisiti di quello che non è pervenuto o è pervenuto in maniera parziale o incompleta. Per tutte le altre tacitamente ci sarà il lascia passare per il rilascio della licenza nazionale. Nelle stesse ore la società bianco-rossa terrà l'assemblea dei soci per la relazione del lavoro svolto per l'iscrizione al campionato e per discutere delle dimissioni dell'attuale amministratore unico Massimo Chierchia e dell'eventuale nomina del suo sostituto qualora le dimissioni fossero accettate e ratificate. In ogni caso, nell'ipotesi di stop alla domanda di iscrizione, il diavolo inizierebbe una battaglia legale per conservare la categoria salvaguardata sul campo dopo una stagione in ogni caso travagliata. Il giudizio sospeso ha comunque tenuto il teramo lontano dalla possibilità di iniziare a costruire un organico per la prossima annata. I contratti in scadenza al 30 giugno sono decaduti e questo, da qualunque parte la si voglia vedere, costringerà la società bianco-rossa ad una lunga rincorsa. Nessuno ovviamente in questi giorni ha avuto l'opportunità di disegnare un progetto calcistico proprio perché manca ancora la certezza della categoria. La decisione influirà anche sulla tempistica, mentre Giuseppe Spinelli, in predicato di entrare a pieno titolo nel sodalizio terramanno da settimana, rimane ancora alla finestra, cercando di comprendere quello che accadrà. L'indice di liquidità, requisito indispensabile, che manca per avere la via libera alla Lega Pro che verrà, in caso di mantenimento della Serie C andrebbe in ogni caso messo a posto. Ma le speranze di passare indenne il vaglio odierno sono poche. Poi comincerà, eventualmente, il secondo tempo di una partita che si preannuncia lunga, ma non lunghissima, visto che andranno conciliate le decisioni degli organi federali con quelli di riavvio del campionato, il 21 agosto antipasto con il primo turno di Coppa Italia di categoria. Una settimana dopo, lo start dei tre gironi. Intanto, con l'ufficialità di un exteramo come Massimo Paci sulla panchina della Pro Vercelli, il mosaico dei tecnici sta quasi per chiudersi. Ovviamente manca il Diavolo, la Lucchese che ha appena salutato Guido Pagliuca, il Messina, il Giuliano, la Triestina e la Viterbese.